Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. È un momento drammatico per Mariana Derderian, un volto noto del cinema internazionale, recentemente colpita da una tragedia familiare devastante. Mariana, originaria del Venezuela, è salita alla ribalta grazie al suo eccezionale talento artistico, celebrata in particolare per il suo ruolo da protagonista nella sopopera e Floribella. Tuttavia, una tragica mattina di giovedì, un incendio ha improvvisamente invaso la sua abitazione. Il fuoco ha iniziato a divorare tutto ciò che incontrava, e in quel caos, Mariana ha combattuto disperatamente per mettere in salvo la sua famiglia, inclusi i suoi due figli e l'ex marito. Nonostante la sua rapida reazione nel chiamare i soccorsi e il tentativo eroico di trarre in salvo i suoi figli, il più piccolo di soli sei anni è rimasto intrappolato e ha tragicamente perso la vita. L'ex marito, nel tentativo di salvare il figlio, ha subito gravi ferite che lo hanno lasciato in coma. Ora, oltre al dolore straziante per la perdita del suo figlio adorato, si trova a dover gestire l'angoscia e l'incertezza sulle condizioni di salute dell'ex marito.